Una Toscana pulita è il manifesto firmato all'Internet Festival a Pisa. L'obiettivo, chiaramente, è quello di costruire un futuro sostenibile dal punto di vista ambientale, con gesti concreti e con la collaborazione di cittadini e associazioni. Per la Regione Toscana ha firmato il manifesto l'assessore Vittorio Bugli, che ha preso parte all'incontro Toscana 2019. Inizia l'era plastic free, tenutosi al polo universitario Le Benedettine, dove alcune start-up hanno presentato i loro progetti per liberare il mondo dalle plastiche. Una Toscana che vuol provare a fare da modello. Ma possiamo farlo, ma in Toscana in generale, se le tante buone pratiche che ci sono sul nostro territorio riusciamo a farle diventare sempre più ampie e riguardare tutto il territorio toscano. Un esempio concreto ci viene offerto dalla start-up toscana Blue Line, che ha spiegato il suo progetto, una barriera retrattile da installare in fiume e torrenti e che serve a bloccare e raccogliere i rifiuti. Un altro esempio concreto... Stamani avevamo un'associazione che ha messo in piedi questa cosa del bicchiere pieno di cicche che se portate al barista, il barista dà in omaggio un prodotto. Ecco, questa cosa che è stata fatta in provincia di Livorno, in alcune realtà bisogna provare dal primo di gennaio a farla essere a livello regionale. Insomma, gli obiettivi da perseguire per avere un ambiente plastic free sono molti e serve la collaborazione di tutti.